Signore fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi Tu, pastore d'Israele Cristo risorto, buona giornata carissimi amici Proseguiamo la lettura del Vangelo in questo tempo di avvento e lasciamo che la parola di Dio dal Vangelo e poi il profeta Esaia possano scaldare i nostri cuori Matteo 15, 29, 39 Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e è salito sul monte e lì si fermò Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì Tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano E lo dava il Dio di Israele Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse Sento compassione per la folla Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino E i discepoli gli dissero Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare, una folla così grande? Gesù domandò loro Quanti pani avete? Dissero Sette e pochi pesciolini Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra Prese i sette pani e i pesci Rese grazie Li spezzò e li dava ai discepoli E i discepoli alla folla Tutti mangiarono a sazietà Portarono via i pezzi avanzati Sette sporte piene Quelli che avevano mangiato Erano quattromila uomini Senza contare le donne e i bambini Congedata la folla Gesù salì sulla barca E andò nella regione di Magadano Amen Ecco, carissimi amici Abbiamo ascoltato questo Vangelo di Matteo Di questa moltiplicazione dei pani e dei pesci E ascoltiamo anche il profeta Esaia al capitolo 25 Dal versetto 6 al versetto 10 Preparerai il Signore degli eserciti Per tutti i popoli su questo monte Un banchetto di grasse vivande Un banchetto di vini eccellenti Di cibi succulenti Di vini raffinati Egli strapperà su questo monte Il velo che copriva la faccia di tutti i popoli E la coltre distesa su tutte le nazioni Eliminerà la morte per sempre Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto L'ignominia del suo popolo Farà scomparire da tutta la terra Poiché il Signore ha parlato E si dirà in quel giorno Ecco il nostro Dio In Lui abbiamo sperato Perché ci salvasse Questi è il Signore In cui abbiamo sperato Rallegriamoci Esultiamo per la sua salvezza Poiché la mano del Signore Si poserà su questo monte A me Carissimi, queste due letture Che oggi abbiamo ascoltato Sono in armonia tra di loro Camminano insieme Innanzitutto il Vangelo Ci porta a noi Gesù Che predica un Gesù Che annuncia la sua parola Un Gesù Che viene per sanare i malati Sanare ogni tipo di malattia Ogni difficoltà A livello di salute Liberare le oppressioni Le schiavitù Le catene E moltiplicare il poco che c'era Perché è Lui Che viene a moltiplicare Quel poco di pane e di pesce Che c'era Ed era presente In mezzo alla gente Che era con Gesù Già da tre giorni Ecco che già Questa parte Del Vangelo In qualche modo Anticipa Quello che è il Regno di Dio Il Regno dei Cieli Quello che è descritto In Isaia 25 Si parla di un banchetto E Isaia l'abbiamo visto Già ieri Capitolo 11 Prevede la venuta di un Messia Un germoglio sul tronco di esse E questo germoglio sul tronco di esse Viene a liberare E' liberatore E quello che porta Questo Principe Davidico Questo Messia Porta qualcosa di grande Un grande banchetto Un banchetto di grasse vivande Un banchetto di vini eccellenti Di cibi succulenti Di vini raffinati Carissimi Questo è il Regno di Dio Noi stiamo attendendo Sia la seconda venuta di Gesù E quando verrà Porterà tutto questo Quando noi saremo in cielo In particolar modo Sia Stiamo attendendo il Natale In un atteggiamento di speranza Alla luce dei profeti Alla luce di ogni profezia Poiché le profezie Sono state realizzate in Gesù Ma si compiono anche nelle nostre vite Ecco perché sta scritto Che il Signore strapperà su questo monte Il velo che copriva la faccia E la coltre distesa su tutte le nazioni Ciò che era un'oppressione Ciò che stiamo sperimentando Come difficoltà nelle nostre vite Dio viene Dio viene per eliminare la morte per sempre Il nemico numero uno di tutti noi uomini Dio lo elimina E fa molto di più Asciuga le lacrime su ogni volto Tutte le situazioni di lutto Le situazioni di crisi Di malattia che stiamo vivendo Di crisi economica Crisi relazionale Nelle nostre vite Dio viene e le elimina Poiché porta qualcosa di nuovo E si dirà in quel giorno Ecco il nostro Dio In Lui abbiamo sperato Perché ci salvasse Fratelli e sorelle Oggi è un giorno di speranza Oggi è un giorno in cui Sollevare il nostro capo Elevare a Dio la lode Elevare a Lui la nostra speranza E dirgli Signore in Te speriamo Rallegriamoci ed esultiamo Per la Tua salvezza Ecco l'esortazione di Dio Ecco l'indicazione di Dio Che ci dà oggi Rallegrarsi Esultare in Lui Per la Sua salvezza Perché la mano del Signore Si posa su questo monte Si posa sulla Tua casa Sulla Tua vita Sul Tuo cuore Su tutte le nostre intenzioni Che vogliamo affidare oggi al Signore Quindi abbiamo fiducia In questo Principe di Davide In questo Re dei Re In questo Signore dei Signori Che è Gesù Che viene per realizzare il Suo Regno Viene per diffondere la Sua gloria Viene e vuole trovare un cuore che è aperto Un cuore che è disponibile Allora oggi gli diciamo Vieni Signore Gesù Maranata Vieni Signore Gesù Entra nelle nostre vite E come hai fatto Signore Con la folla Guarisci le nostre malattie Rissana Le nostre infermità Liberaci Signore Donaci la liberazione E come hai detto qui Prepara per noi Davvero un banchetto di grasse vivante E grazie Signore Perché quando Tu vieni Porti gioia Porti esultanza E noi esultiamo Insieme a queste campane di strona Esultiamo per la vittoria Che Tu hai Sopra ogni male Sopra la morte E sopra ogni nostra difficoltà E a Te Signore Sia sempre L'onore e la gloria Per tutti i secoli dei secoli A me Carissimi amici Esultiamo Assieme alle campane nostre Della parrocchia di strona Esultiamo di gioia Perché Dio è un Dio fedele Dio è un Dio Che quanto ha promesso Lo mantiene Per te e per me E quindi apriamo i nostri cuori E viviamo questo giorno Nella speranza Nel Dio Che Isaia stesso Ci ha presentato Il Dio dell'abbondanza Amen Grazie che mi avete accolto Buona giornata A domani Ciao Signore fa splendere Il tuo volto E noi saremo salvi Signore fa splendere Il tuo volto E noi saremo salvi Tu, pastore di Israele Ascolta Seduto sui cherubini Risplendi Risveglia la tua potenza E vieni a salvarci Signore fa splendere Il tuo volto E noi saremo salvi Dio degli eserci Ascolta di Israele